TQQ di giornata, il premio Secretariat, due jackpot su Quartè Quintè, sono partiti i cavalli dell'ultima corsa di quest'oggi. Geometria è il più veloce a partire, San Monterazzano subito ai suoi fianchi, in terza posizione, atto finale, poi Arkanshaw, Soweto, Zuhoer, Britannico, No Beads like this Beads, poi Soffio del Vento, ancora Canguro Basque, Fiore del Drago, Foroneo e in coda a tutti Mystic Calcumy. Si procede così, con i cavalli che vanno ad affrontare la prima curva, proprio nel medesimo ordine, sempre geometria in vantaggio, come poteva essere in qualche modo prevedibile. Seconda posizione San Monterazzano a precedere Britannico con la Giubarancio che si è sistemato in terza, in quarta invece Galoppa Soweto a precedere atto finale, No Beads like this Beads, poi Arkanshaw con le sue spalle, Zuhoer, Soffio del Vento ed ancora a completare il quadro Fiore del Drago, Foroneo e con la Giubabianca Cangur Basque. In coda a tutti troviamo Mystic Alchemy. Cavalli che hanno percorso il primo quarto della retta opposta, l'andatura è rimasta sempre la stessa, geometria sta dettando un'andatura regolare per la categoria, per un handicap da 3-4, quella giusta, in seconda posizione San Monterazzano e Britannico, poi ancora No Beads like this Beads a precedere Soffio del Vento, in sesta posizione all'interno troviamo Soweto e ancora Arkanshaw, Zuhoer, Foroneo, alle cui spalle gravitano anche Fiore del Drago con Mystic Alchemy anticipato da Canguro Basque. Si va così ad affrontare l'ultima curva, si sta sveltendo ulteriormente l'andatura ma sempre geometria a dettare il ritmo, Soffio del Vento che tenta la carta del lungo anticipo e si è portato ai fianchi del leader. In terza posizione c'è un bel mucchione con Britannico San Monterazzano, poi all'interno Arkanshaw, all'esterno di tutti, atto finale No Beads like this Beads, si avvicina anche Foroneo quando siamo addirittura d'arrivo, in vantaggio c'è sempre geometria, Soffio del Vento che fa lo scatto al suo esterno, allo steccato opposto si concretizza la minaccia di atto finale, quella di Canguro Basque, all'interno trova un buon barco Arkanshaw che si trascina anche Soweto, c'è un ventaglione incredibile con Zuoyer che sta provando a progredire, ha trovato l'ottimo barco, Zuoyer che fa lo scatto all'esterno di geometria, ci prova dall'esterno ancora anche Fiore del Drago trascinandosi Britannico e Foroneo con Zuoyer attaccato all'esterno da Fiore del Drago, Fiore del Drago che va su Zuoyer, Fiore del Drago che passa a cento dal palo e chiude la partita a doppia mandata, con Zuoyer che arriva al secondo posto, poi Mythic Alchemy, atto finale e Foroneo a completare il quadro. Vince dunque il pesino basso, Fiore del Drago, doppietta per Tore Sulaz, training di Elena Malgioglio, colori di Gabriele Di Gennaro, rivediamo il rush conclusivo veramente apprezzabile da parte di Fiore del Drago che era arrivato quinto l'ultima volta, oggi invece è riuscito a progredire ottenendo così la vittoria numero 5 in carriera. Secondo posto vediamo un po' per chi, perché è un quintet, quindi 12 al primo, io direi Zuoyer 3 al secondo, al terzo 10 atto finale, al quarto 1 Mystic Alchemy e al quinto appunto Foroneo numero 13 numericamente, dunque l'ordine d'arrivo recita così, 12-3-10-1-13, chiaramente il tutto in maniera provvisoria, vince Fiore del Drago, Tore Sulaz, Elena Malgioglio, Gabriele Di Gennaro.